Oggi, domenica 10 ottobre, siamo a Teulada e qui davanti a noi abbiamo il sindaco di Teulada, Gianni Arbai, che praticamente ci chiediamo come mai c'è questa mobilizzazione in questa piazza dove si parla di nucleare. Signor sindaco, ma come mai questa cosa qui a Teulada? Intanto per dare una dimostrazione che tutta Teulada è sicuramente contraria a nucleari, l'hanno già fatto anche perché fonti di stampa hanno dato la possibilità che a Teulada ci potesse essere un sito per i nucleari oppure per la realizzazione di una città. Noi non siamo d'accordo, siamo contrari ad ogni tipo di energia, vogliamo un'energia pulita, stiamo per l'energia solare, per l'energia alternativa diversa, la regione Sardegna deve mirare a quelle cose, anche per un tipo di sviluppo che ci deve essere. Abbiamo un sviluppo ecosostenibile, miriamo a quelle cose, anche le attività di sviluppo devono mirare a quelle cose, la regione Sardegna deve mirare sul turismo, sulla bellezza naturale, è sicuramente una questione proprio di immagine nucleare, non ci va a me. Bene, perciò voglio dire, adesso io ho letto lì che parla di questo bronzetto nuragico che parla di guardiania, perciò cosa c'è? Un simbolo anche di sovranità sul proprio territorio? E' chiaro, perché noi, diciamo sovranità soprattutto del popolo sardo, devono sempre essere in grado, io penso veramente che la maggioranza dei sardi non voglia in grado, non siamo in grado, quindi noi grazie anche all'iniziativa del referendum contro l'Opeale da parte di questo comitato. Stato promotore, promotore, noi appoggeremo a loro, quindi faremo di tutto affinché facciamo sapere la nostra voce. Perciò avete già prontato una delibera per… Ho già fatto una delibera, portata all'onanimità dal tutto il Consiglio Comunale, abbiamo dichiarato il comune che va, il comune viene realizzato e non disponibile ad accettare nessun tipo di scuole nucleari nel nostro tempo. Grazie Sindaco. Grazie. Grazie.